Don Alessandro, oggi si presenta il calendario ricco di appuntamenti culturali e anche religiosi per quello che è l'atteso momento di festa intorno alla Madonna di Capocolonna. Finalmente ci siamo. È arrivato il mese più caro a noi crotonesi, però anche credo alla comunità diocesana e anche oltre i confini della comunità diocesana. Pensiamo a tutti i crotonesi che per questa festa già stanno telefonando, che sono fuori in altre città, vogliono sapere la data del pellegrinaggio perché già sono anche loro in fermento per trovarsi a questa festa che ci unisce tutti e che è diventata anche il segno identitario dell'essere crotonese. Come nella tradizione, domenica prossima la Madonna a mezzogiorno verrà portata dalla sua cappella sull'altare maggiore là, rimarrà per tutto il mese di maggio in un susseguirsi di celebrazioni dall'inizio fino alla fine, le varie parrocchie della città che verranno, poi ci saranno i padri predicatori per due settimane, due padri cappuccini ci detteranno ogni sera le meditazioni e poi ci sarà come al solito la processione all'ospedale e il pellegrinaggio notturno di giorno 21 con il quadricello. Tante celebrazioni religiose ma anche tanti momenti di festa, torna addirittura l'esibizione musicale che da tempo non c'era più. Ma questo è in una, diciamo si avvera un sogno di Monsignor Agostino, la sinergia con tutta la città. Quest'anno i fuochi, ad esempio lì farà l'amministrazione comunale, il concerto lo farà l'amministrazione comunale insieme a Finimprese e Envigroup, poi la stessa illuminazione la farà una parte Envigroup, un'altra parte Finimprese, un'altra parte il Comitato Feste Mariani. Quindi si inizia un nuovo modo anche di concepire la festa perché la festa non è solo la festa della cattedrale ma è la festa della città e della festa della provincia. È un appuntamento ormai che appartiene alla tradizione, anche alla storia della nostra città, alla storia anche della nostra chiesa. La Madonna è patrona della diocesi e quindi anche investe la realtà di tutte le parrocchie della diocesi, cioè di tutta la nostra realtà ecclesiale. È un appuntamento atteso e speriamo che sia anche un appuntamento di rinnovamento spirituale perché la festa della Madonna è soprattutto quello che Monsignor Agostino, mi ricordo, chiamava la Pasqua di Crotone. La Pasqua di Crotone è il mese di maggio. Anche quest'anno il contributo del gruppo Envii a quelli che sono i festeggiamenti in onore della Madonna di Capocolonna? Sì, abbiamo voluto dare continuità a quello che si è fatto l'anno scorso. Quest'anno forse un po' meglio perché si è creata sinergia insieme con la Curia. Volevo ringraziare con l'occasione il Vesco e l'amministrazione comunale che ha delle somme disponibili e quindi ci hanno contattato e abbiamo dato la nostra disponibilità affinché questo mese Mariano diventi per questa città un momento spensierato senza tralasciare assolutamente la fede che c'è per la Madonna di Capocolonna. Guardiamo al mondo del calcio e a questo incontro che ci sarà con la Madonna di Capocolonna e la squadra si torna con la squadra in Duomo davanti alla Madonna. L'11 di maggio, alle 11 la squadra deve fare la visita alla Madonna di Capocolonna grazie anche a Don Bernardino che è sempre stato lui l'artefice di questa iniziativa. Io e Andrea Esposito come fenimpresi insieme al Presidente Vrenna ci siamo sempre quindi per il bene della città anche grazie al Comune che sin da subito si è prodigato per unire e aggregare tutti quanti. Quindi quest'anno prevediamo una festa fantastica, un mese Mariano bellissimo perché i grotonesi e i cittadini se lo meritano. Offriremo noi come associazione insieme al gruppo Vrenna, il gruppo Envi e il Comune i fuochi pirotecnici e le luminarie. Ovviamente il calendario è fit perché la curia si è data da fare in maniera incredibile pertanto ci vediamo insieme a tutti i grotonesi per festeggiare questo mese che è importantissimo.